Stretta di mano, ciac, buona la seconda. Al primo turno no, ma al ballottaggio sì. Va di scena l'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Edoardo Bortolotto appoggia Giacomo Possamai. Il candidato sindaco Grillino a Vicenza ha raccolto 802 voti che gli sono valsi l'1,69% e da oggi li mette nel motore del centro-sinistra a rush finale. Edoardo Bortolotto è lo storico avvocato dei movimenti No Pifas, è una persona esperta di tematiche ambientali per cui gli ho chiesto di coordinare l'osservatorio che faremo sui temi dell'ambiente a Vicenza e in particolare dell'inquinamento. Giacomo Possamai si muove sulla scacchiera. Già in vantaggio di 1029 voti sul sindaco uscente prova ad andare in scacco puntando a incassare gli 800 voti del Movimento 5 Stelle. Dopo aver acquisito anche l'eredità politica di 1181 voti di Lucio Zoppello, ex Forza Italia ed ex assessore di centrodestra. Sì, proprio Lucio Zoppello che oggi appoggia l'alfiere del Partito Democratico, ma solo pochi giorni fa aveva scritto un post in cui sosteneva che Giacomo Possamai ha idee fresche ma irrealizzabili. Certo, quello di oggi per il Movimento 5 Stelle politicamente è senz'altro un buon accordo. I grillini con queste elezioni amministrative sono tornati ad affacciarsi sulla politica cittadina vicentina ma con l'1,69% non sono riusciti a entrare in consiglio comunale. In questo modo invece, grazie all'accordo con Giacomo Possamai, se vincerà il centrosinistra, i grillini continueranno a presidiare la città con l'osservatorio sull'ambiente. Per loro un buon risultato sul fronte ecologico ma anche sul fronte politico. L'idea è ovviamente quella che sia anche sottoscritto ad avere la responsabilità di gestire questo osservatorio, però sarà aperto un po' alla società civile e alle associazioni. Quindi nostra speranza è che sia anche un contenitore di esperienze che vengano da varie situazioni, quindi possono essere i sindacati come le associazioni ambientaliste, con le quali ovviamente io ormai collaboro da anni, quindi sarà anche da parte mia un piacere se decideranno di unirsi a questa battaglia. Il Movimento 5 Stelle apre ai sindacati e alle associazioni ambientaliste. L'appoggio al Partito Democratico ripropone il binomio politico del governo giallorosso di Giuseppe Conte. Sì, la storia va avanti, certo, ma la stretta di mano di oggi evoca sensazioni di déjà vu.